Sport Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis, bentornato Valter. Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato il ritorno di Mazzarri a Napoli. Bentornato Valter, ha scritto sul suo profilo X. Niente Tudor, dunque, che era stato a lungo in vantaggio dopo l'esonero di Rudy Garcia. Il tecnico francese è stato esonerato dopo 12 giornate con un freddo comunicato. La società sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudy Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino ad oggi. Dopo dieci anni Mazzarri torna al Napoli. Era infatti il 19 maggio 2013 quando i partenopei, da lui allenati, persero 2-1 contro la Roma di Andrea Zoli. Aveva guidato il Napoli dalla 2009 e portato la squadra in Champions conquistando una Coppa Italia. Ad attendere Mazzarri c'è un calendario per nulla facile. Si parte subito con una trasferta in casa dell'Atalanta, poi Real Madrid, Inter e Juventus, quest'ultima nella serata dell'8 dicembre. A seguire Braga, Caglia, Trosinone, Roma, prima del Natale. Grazie a tutti.